La libertà di stampa è uno dei diritti fondamentali, ma molte volte qualche d'uno bisogna ricordarlo. Questa mattina alle 9 c'è stato il Consiglio Comunale, qui ad Alassio il Presidente del Consiglio Rocco Invernizzi ha cercato di mandare via le telecamere dicendo che praticamente il nuovo regolamento vietava le riprese televisive. Per fortuna poi è intervenuto il Sindaco a rimettere un po' le cose a posto, ma vediamo cosa è successo. Le riprese, io ho sentito la segretaria che devono essere autorizzate dal Presidente. C'è il diritto di tronaca, signori, è solo in questo comune che lo valga come la mattina. Beh no, i tre minuti li dovete concedere. Il segretario è una televisione. Quindi il regolamento è chiaro, è chiaro il regolamento, mi pregherei di interrompere le riprese televisive. Siamo un omittente televisiva regolare, sono un giornalista professionista. Se mi fate uscire da questa sala io presento esposto ai carabinieri immediatamente. Io ve lo comunico... Io obbedisco, esco, non faccio resistenza, ritenendo l'eso il mio diritto di cronaca e di svolgere la mia professione. C'è il diritto di cronaca, signori, ma per piacere. Il diritto di cronaca vale in tutta Italia, non può non valere in questo comune. Ma stiamo veramente scherzando. Se voi volete chiedere i vittori e i cartelli mi sembra che siano stati corretti e li abbiano tolti. Se voi volete chiedere di non riprendere alle persone che sono del pubblico va bene. Ma che voi lo vietate a una televisione o a dei giornalisti professionisti è un'intecenza. Scherziamo. Capisco il consiglio alle nove, capisco che non vogliate riprendere, capisco tutto. Poi io lo vieti, la prego, perché non abbiamo neanche ancora iniziato, abbiamo iniziato bene. No, non abbiamo iniziato bene. Dicendo che dobbiamo... Non abbiamo iniziato bene nel momento in cui mandate via una televisione. No, stiamo mandando via, stiamo cercando di capire cosa dice il regolamento. Il regolamento è molto chiaro. Dice, le riprese televisive private, le riprese televisive private, credo che il sindaco sia d'accordo con me, consigliere. A me pazienza. Prego, consiglio al sindaco. Decido, presidente, io comunque sono d'accordo con l'alto, ma signore, mi tende a dirgli per la tv, secondo me, a tutti i diritti per poter... Allora, grazie. Allora, sarà evidente questo regolamento, quello che io attualizzavo è che non sono concesse le riprese private. Perfetto. Perfetto.